su pilami e allora il livello è anelli e saltelli proseguiamo con l'avventura non ci interessa fare altre modalità o cose proprio voglio bypassare sto gioco grazie a tutti grazie a tutti aia allora è che la musica mi stava stragasando e dopo sono impassito mi sono mangiato non ci arrivo più lascio muovala forse conviene crepare molto bella sta musica allora 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 alla fine erano solo dei tesori sì yes prego sono morto come un coone contro non ho capito bene ste spine bene bella 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 allora a 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo un po' la situa... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok... Pensavano di fregarmi. No mi vedo. Crepato... Riproviamo... Mannaggia... Facciamo così... Facciamo così... Facciamo primo... Ah... Ah... Non lo sapevo che gli spuntoni... Manco un Mario Kart... Allora... Eh... Eh... Ho sfondato due volte... Si vede che... Ho premuto troppo in là... Yes... 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 Allora... 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 Yes... Allora... 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 Sì, sì, sì. Ah, bisogna stare lì sotto. Meglio perché adesso poi mi rifaccio i pressi. Ah, bisogna stare lì sotto. Ah, bisogna stare lì sotto. Ah, bisogna stare lì sotto. Allora. 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 Adesso vediamo di andare avanti. Allora. Qua c'è il mondo nascosto la giungla. Facciamo questo. Dovrebbe essere sempre il tronchetto maledetto. Esatto. Sì. Spine. Ma è una gita, anche se devo farne 44. Allora. Allora. avrò. Allora. 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 qui c'è un biglietto che non mi interessa. Allora. 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 qui c'è un biglietto. qui c'è un biglietto che non mi interessa. Allora. 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 Sì, sì, sì. Non ho capito su quale principio il livello preistorico. Sì, è che a questo gioco ho musiche, ci siamo. Sì. 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 Ah, che stress. Forse premo bene al momento giusto o riesco già a prenderlo con uno? Oh! Forse premo bene al momento giusto? 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 Allora ragazzi Allora questo cosa è già il mondo Ah il mondo Aspetta un po' Perché questo qui è già finito No È un extra questo Sì perché qua si va avanti col boss Ah è un mondo nascosto Te penso addirittura Vabbè a noi non ci interessa A noi ci interessa Ci interessa andare avanti Vabbè Ci vediamo a un prossimo episodio Ciao 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 Ciao